L'apicoltura urbana è un movimento culturale fondato su un'idea positiva di libertà e sul rispetto dell'ambiente e del benessere animale. Promuove e difende chi valorizza le api mellifere, quelle selvatiche, centri uguali e vuole contribuire al salvaguardia dell'ambiente. Propone un nuovo modo di rapportarsi con il mondo, valutando la naturalezza dei rapporti tra i cittadini e di quelli con gli animali. Promuove a tutti i cittadini il rispetto dei tempi e dei cicli biologici di ciascuno. La biodiversità, ovvero il rispetto e il valore delle differenze attraverso il piacere della scoperta, conoscenza, esperienza, educazione. Offre uno sbocco creativo a chi è limitato da una disabilità e a chi è carcerato e che ha dovuto emigrare. Vuole anche essere il pretesto per proporre una partecipazione attiva e condivisa delle grandi, di città alla salvaguardia della biodiversità, dal mantenere alveare gli urbani e nidi artificiali per gli apoidei, a coltivare fonti di pascolo. Legata alla città, che è il centro della comunicazione, l'apicoltura urbana può sfociare in forme d'arte, coinvolgere i cittadini, scuole e bambini, per far scoprire i ritmi e espressioni della vita naturale, promuovere la produzione locale di cibo e servire e monitorare la mia vita. La scoperta è dovuta, aiava o la nuova sensazione della scoperta, a scoperta e fiazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.